Sì, innanzitutto voglio ringraziare Alessandro che è stata anche una figura fondamentale per quello che è stato il mio percorso in questa società. Comunque i miei genitori sono stati entrambi importantissimi perché sia la figura di mio padre che la figura di mia madre sono state fondamentali. Il mio padre è stato fondamentale per insegnarmi la palla a volo, lui è stato un giocatore di palla a volo comunque che ha giocato a livelli abbastanza importanti anche lui e mi ha aiutato a imparare anche le cose tecniche, mi ha stimolato molte volte ad allenarmi con lui e quindi sono riuscito ad apprendere molte nozioni grazie al suo supporto. Invece mia madre non si è mai ambientata tanto nel settore della palla a volo però mi ha aiutato molto con le cose extra pallavolistiche e quindi è stata anche lei una fonte di grande aiuto per il mio percorso in questa società. Non mi aspettavo la fiammata e quando ho sentito che mi volevo in prima squadra sono rimasto molto sorpreso e colpito e cercherò di dare il massimo in questa stagione, imparare anche da le persone che hanno più esperienza di me già in questo settore per migliorare in quest'anno e diventare anche un giocatore migliore. Il mio percorso in moda a volo è stato un po' particolare perché diciamo che fino all'under 13-14 non ero compreso molto per quanto riguardasse la squadra, non avevo una titolarità fissa, infatti facevo molta panchina e perciò ho incontrato anche le persone giuste nel corso di questo percorso per far sì che potessi migliorarmi nel corso degli anni e anche avere poi un posto da titolare nell'under 19 ad esempio di quest'anno che mi ha fatto crescere molto. Come avete visto noi negli ultimi due anni abbiamo cercato di ritornare fortemente sull'evoluzione del settore giovanile, quest'anno oltre alla foresteria che abbiamo riaperto è arrivato un nuovo direttore tenico Mario Barbiero che adesso sta già lavorando per noi, in questo momento è giù al trofeo dei territori di Molise, quindi abbiamo una presenza oramai 24 ore su 24 su tutto il territorio italiano, quindi segnalazioni di ragazzi di prospettiva sono tutto quanto sotto il suo controllo, a maggior ragione noi vogliamo come azienda di famiglia, vogliamo continuare a investire nel settore giovanile, il Presidente Costamani e tutti i nostri soci, il Consiglio delle amministrazioni, i nuovi sponsor che sono arrivati, sono proiettati a investire sul settore giovanile e ripeto oggi per noi è un motivo di orgoglio avere qui Ale Coppa perché è un ragazzo che ho potuto seguire in prima persona nella sua crescita da quando aveva 13 anni e arrivare adesso, quindi oggi possiamo dire che possiamo essere veramente soddisfatti di questo percorso che sicuramente da questa nuova stagione in poi che tra l'altro confermo che il settore giovanile abbiamo già fatto una cronologia a partire dal 4 settembre ripartirà tra l'altro il 26-27 di giugno abbiamo fatto questo stage aperto a tutta Italia, sono arrivati una quindicina di ragazzi, ne faremo uno più avanti perché veramente abbiamo in questo momento ci sono proprio le società che ci vengono a cercare perché vogliono proprio avere una crescita, vedono che il Funio sta ritornando, vuole essere il nuovo protagonista del settore giovanile, noi vogliamo di nuovo essere il punto di riferimento per il Piemonte come settore giovanile e quindi siamo sicuri che siamo sulla buona strada e ci saranno dei nuovi ragazzi che entreranno a far parte del Colle, tutto il progetto che il Presidente ce l'ha già spiegato tempo fa e quindi ripeto, come famiglia siamo pronti a investire sempre nel settore giovanile. Io volevo coinvolgere anche tu papà, so che magari è anche un po' emozionato, sicuramente non arrivi da un bellissimo momento, lo sappiamo tutti, però credo che hai avuto la grande soddisfazione di vedere questa azienda continuare grazie al tuo figlio, grazie ai tuoi figli, credo che questo non accade in tante altre occasioni perché magari i figli prendono altre strade e insomma quello che poi i genitori costruiscono deve poi finire e questo non è il tuo caso perché questa azienda è un'azienda importante grazie insomma all'apporto anche di Alessandro, dei tuoi nipoti che insomma in qualche modo fanno continuare quello che è stata i tuoi sacrifici, no? Sì, diciamo così, è una cosa bella perché l'hai creato quindi vuoi continuare, però c'è anche la parte negativa, no? Che continuando lui io purtroppo la mia pensione, no ma è anche bello quello perché non è che sono obbligato a venire qua a fare quello, però è quello che mi aiuta a diciamo a sentire meno gli anni, no? Certo. Anche se a volte mi incavolo perché abbiamo mentalità diverse, quindi tre tecniche diverse, quindi però è una cosa bella, fa piacere. Certo.